Primo appuntamento a Urbino di Aspettando UCL 2020, la rassegna che cadenza il conto alla rovescia per la settima edizione del Festival Letterario Urbino e le Città del Libro, che quest'anno si terrà a Urbino dal 22 al 24 maggio. L'incontro di mercoledì 5 febbraio alla Bottega Bernardi è stato dedicato all'esposizione di Scarabuc, la collana ideata, progettata e realizzata dall'artista di fama internazionale Guido Scarabottolo. Nel corso dell'incontro Guido Scarabottolo ha dialogato con Jonathan Pierini, direttore di Isi e Urbino. Il legame dell'artista con la città ducale è sempre più forte e reciproco. Scarabuc è un prodotto strano perché nasce più dal costruire una relazione o dalle relazioni costruite che da un progetto individuale. Ho avuto dei pacchi, delle risme, come si dice tra noi, di carta fabriano di una quarantina d'anni da un amico che è morto. L'uomo che salvava i libri lo chiamavano perché era un direttore di biblioteca che ha fatto una collezione di 9.000 volumi solo per conservare le copertine perché nelle biblioteche venivano distrutte. Io faccio copertine da una vita, quindi è stata una bella amicizia. Quando è venuto a mancare, lui era anche editore, Sandro Bortone si chiamava. E poi ho pensato che sarebbe stato bello inventarsi qualcosa con i disegni che avevo in archivio. E quindi piano piano mi sono inventato le regole di questa operazione, quindi con 99 disegni ho scoperto che usandoli a due a due, sempre con coppie sempre diverse, potevo realizzare 9.801 volumetti tutti diversi e la cosa mi sembrava appetitosa. Poi mi è venuto tra Scarabocchio, Scarabottolo e Scarabuc, il nome è venuto tranquillamente e ho cominciato a farli. Insomma qui ce ne sono solo 100 però anche perché portarseli in giro è difficile. Ovviamente non li ho fatti tutti ma ogni volume è un pezzo unico perché la coppia di disegni che lo forma è l'unica coppia tra i 99 disegni a disposizione, quindi in realtà sono 99 disegni per 99 volte e quindi sono 9.801 coppie diverse.